Se vuoi vincere, devi prevedere. Devi anticipare le mosse del tuo avversario e trovare le contromisure. Mi dite come l'ha potuto fare! Sei oltre ogni limite, Elizabeth. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione. Ti sbatteranno in galera per oltraggio alla corte. Colpiamola sul privato. Conosci la parola annichilire? Vuol dire annientare. Hai passato il segno. Siamo più di 5 milioni e siamo armati. Devi essere certa che li sorprenderai. E che loro non sorprenderanno te. Miss Sloan, giochi di potere al cinema.